Quinto casting qui a Mistopolini, io sono Mr. Rocco, vi presento subito un'altra aspirante Miss numero? 58, il tuo nome? Antoana, sono convinto che gli amici sostenitori di Mistopolini vogliono sapere molte cose su di te Quindi raccontaci chi sei? Io sono una semplice studentessa, ho i miei hobby, vivo la vita come tutte le mie coetane Giusto, hai parlato di hobby, hai qualche hobby in particolare, fai sport? Sì, faccio palestra, jogging, pallavolo ogni tanto Ho capito, ho capito, va bene, senti sei una ragazza molto bella, non so se il nostro operatore ha già avuto modo di catturare la bellezza dei tuoi occhi Ben arrivata a Mistopolini e ti chiedo anche come mai l'idea di partecipare a questo importante concorso Per caso, perché io mi sono iscritta all'agenzia B-Nice e mi hanno chiamata poi quando c'era il periodo di Topolini per iscrivermi Allora, ho mandato avanti un po' di settimane perché mi vergognavo essendo un po' più grande dell'età media delle ragazze e poi alla fine mi sono decisa e ho partecipato Bene, perché ricordiamo tu hai 24 anni 24 anni Sei giovanissima, sei giovanissima, anche molto bella, ben arrivata qui a Mistopolini e anche per te adesso, Antoana, l'opportunità di salutare e dire tutto ciò che vuoi Saluto Trieste che mi ha accolto con questa brava gente, bella gente e niente, tutti i miei amici In bocca al lupo Crepi Grazie a tutti